che il quadro normativo nazionale, peraltro sottoposto a vincoli di natura internazionale con specifico riguardo alla materia dei soccorsi in mare, non è assolutamente stato modificato dall'attuale Governo. Peraltro le modalità tecnico-operative dei salvataggi non possono essere in alcun modo sottoposte a condizionamenti di natura politica o a interventi esterni alla catena di comando. Dunque sostenere che i soccorsi sarebbero stati condizionati o addirittura impediti dal Governo costituisce una grave falsità che offende soprattutto l'onore e la professionalità dei nostri operatori impegnati quotidianamente in mare in scenari particolarmente difficili. Inoltre permettetemi di precisare che trovo incomprensibile aver messo in connessione il decreto cosiddetto decreto ONG con il neofraggio di Cutro perché in primo luogo né nello Ionio né lungo la cosiddetta Roccaturca hanno mai operato navi di organizzazioni non governative. Per capire come in concreto si raccordino tra loro le competenze dei vari soggetti istituzionali coinvolti e se alla luce delle procedure esistenti vi siano stati degli errori è essenziale chiarire che l'attivazione dell'intero sistema di search and rescue non può prescindere da una segnalazione di una situazione di emergenza. Solo ed esclusivamente se c'è tale segnalazione si attiva il dispositivo SAR. Laddove invece non venga segnalato un distress l'evento operativo è gestito come un intervento di polizia anche in ragione di quanto prima osservato circa la capacità di soccorso delle nostre unità navali. Ed è esattamente quello che è avvenuto nel caso in questione. Nell'evento il primo dato certo è che l'assetto aereo Frontex che per primo ha individuato l'imbarcazione alle ore 22 e 26 del 25 febbraio, ripeto, a 40 miglia nautiche dall'Italia, non ha rilevato e quindi non ha segnalato una situazione di distresse a bordo, limitandosi ad evidenziare la presenza di una persona sopra coperta, di possibili altre persone sotto coperta ed una buona galleggiabilità dell'imbarcazione. Frontex annotava altresì che l'imbarcazione procedeva a velocità regolare, se in odi l'ora, e non appariva sovraccarica e non sbandava. Peraltro nessuna segnalazione di allarme o richiesta di aiuto proveniva dall'imbarcazione in questione. È utile precisare che l'assetto aereo navale Frontex, che ha rilevato l'imbarcazione, stava operando nel quadro della missione Temis in un'area della cosiddetta rotta orientale, rispetto alla quale il Ministero dell'Interno aveva formalmente richiesto già nel 2021 a Frontex il potenziamento del dispositivo di sorveglianza, poi avvenuta grazie al dispiegamento di un ulteriore mezzo aereo. L'assetto Frontex, perché l'evento rilevato alle 22 e 26 del 25 febbraio non aveva né lasciava supporre una condizione di distresse. Lo segnalava correttamente alle autorità italiane di law enforcement e, per conoscenza, anche a quello di soccorso marittimo, nonché al proprio quartier generale, come previsto dalle procedure esistenti, affinché le autorità nazionali competenti gestissero l'evento con strumenti appropriati per tale tipo di operazioni in base al proprio ordinamento.